Esprime soddisfazione il sindaco facente funzioni del comune di Castellabate Luisa Maiuri. Il nostro comune è beneficiario di un contributo per interventi di dissesto idrogeologico per la strada Vallone Alto Licosa che potrà essere messa in sicurezza. Queste le dichiarazioni in merito alla notizia del contributo. Il Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia infatti ha accordato un finanziamento complessivo di 750.000 euro destinato alla riqualificazione del suggestivo sentiero naturalistico che dal porto di San Marco arriva al porticciolo di Licosa. Tale intervento, che verrà iniziato entro il 2021, prevederà la sistemazione degli alvei dei torrenti, la pulizia dei ponticelli e degli attraversamenti stradali, oltre ad interventi di ingegneria naturalistica con un moderno sistema di smaltimento e raccolta delle acque meteoriche. Si tratta di una strada molto amata, continua Luisa Maiuri, da chi pratica trekking per la sua vista panoramica e la bellezza del paesaggio circostante. È per questo che l'amministrazione ha voluto puntare alla sua riqualificazione con un progetto ben strutturato che inciderà positivamente sulla sicurezza stradale e idrogeologica.